Per la prima volta in 250 anni ci troviamo in un sistema che ha abolito la sovranità degli Stati, abolito la sovranità monetaria degli Stati, che è il portafoglio del padre di famiglia con cui mantenere i figli, abolito la sovranità dei parlamenti assoggettati a leggi fatte da persone, da tecnocrati non eletti e abolito anche la sovranità delle Costituzioni nate dopo la seconda guerra mondiale. La Costituzione una volta che tu gli sovrapponi i trattati, anzi inserisci nel corpo della legalità costituzionale, su molti dei principi, qualcosa che è incompatibile e va nella direzione opposto è come lacerarla, è come se uno prendesse le pagine della Costituzione e le strappasse. Più si dice più Europa, più si prendono le pagine della Costituzione e le si strappa uno a uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.